La giornata della terra si sarebbe dovuta celebrare il 22 aprile, però l'avversità delle condizioni meteo ne hanno impedito lo svolgimento, ma oggi, 10 maggio, si celebra questa giornata. È importante il coinvolgimento dei bambini della scuola dell'Edda presso la struttura dell'impianto Pasquinelli, un coinvolgimento dei più piccoli, un coinvolgimento su cui l'AMIU vuole puntare. Assolutamente sì, grazie all'assessorato e all'ambiente e alla pubblica istruzione, nonostante le regole Covid, però a sottolineare come la piantumazione degli alberi rappresenta una azione importante per parlare di green e quindi non soltanto parlandone, ma soprattutto mettendole in campo. Questa era una strada ambiziosa, la stiamo percorrendo passo dopo passo con competenza ed edizione. Grazie. 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 Grazie a tutti.